Il congiuntivo nella lingua tedesca è di due coniugazioni. Dea Konjunktiv zwei è il congiuntivo di seconda coniugazione ed è formato da due tempi. Il presente del nostro condizionale è l'imperfetto del congiuntivo. Vediamo questo congiuntivo con l'uso del verbo dare. Il presente del condizionale io darei, tu daresti, lui darebbe, eccetera. L'imperfetto del congiuntivo che io dessi, oppure se io dessi, che tu dessi, oppure se tu dessi, eccetera. In tedesco, ich gebe, du gebst, er gebe, vi geben, ihr gebet, sie geben. Vediamo alcune frasi con l'uso del Konjunktiv zwei. Esso darebbe ancora, es gebe noch, molto altro da dire, vieles andere zu sagen, ma questo abbastanza, aber hierzu reicht. In tempo non da, die Zeit nicht aus. Per dire, avrei ancora molto da dire, ma il tempo non me lo consente. Es gebe, esso darebbe. Questo è naturalmente assurdo. Das ist natürlich un Sinn. E esso darebbe ancora, und es gebe noch. Molti di questi esempi a nominare. Files solchia, bei spiele, zu nennen. Per dire, tutto ciò è assurdo. E ci sarebbe altri esempi da citare. Es gebe, esso darebbe. Il presente e il passato del nostro congiuntivo vengono tradotti dal presente e dal passato prossimo dell'indicativo. Ad esempio, che io dia diventa io do, ich gebe. Poi abbiamo il congiuntivo di prima coniugazione. Dea coniuntiv eins. Questo congiuntivo è simile al coniuntiv zwei, ma viene usato raramente nella lingua parlata. Si usa invece spesso negli articoli di giornale. Vi faccio un esempio. Lui disse, è a Sagte. Esso desse un'opzione. Es gebe eine Mögligkeit. Questo ha cambiamento. Das zu nennen. Per dire, disse che ci sarebbe stato un modo per cambiare. E questo è quanto. Vi faccio un riepilogo. In tedesco, il congiuntivo di seconda coniugazione corrisponde, in italiano, al presente e al passato del condizionale e all'imperfetto e al trapassato del congiuntivo. Poi, per quanto riguarda il presente e il passato del congiuntivo, viene tradotto dal presente e dal passato dell'indicativo. Rispetto all'italiano, la lingua tedesca ha due congiuntivi. Oltre al congiuntivo di seconda coniugazione, ha anche il congiuntivo di prima coniugazione. Questo, però, viene raramente usato nella lingua parlata, ma si usa molto spesso negli articoli di giornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.